Allora guardiamo un attimo Niente Vediamo se possiamo cambiare magari qualche cosa qua Galvanica e sincromagica Elementale Esistenza elementale Pi 50% quindi all'ardente Ma Proviamo a vedere un attimo Dunque questi sono tutti elementi Elementale Sanghissuga Meditativa Quasi quasi Metterai su questo Perché mettiamo che non lo usa Almeno si cura da solo Materia che permette di usare chakra per occupare punti vita Ne erano solo due Ma non è che mettere su questo a lui Quindi tiffa Abbiamo tolto E quindi mettiamo sull'altro Poi se non sbaglio C'era una cosa sulla parata No Questa Evasiva Non so se erano automatico le usa queste cose Spero di sì Spero di sì Vabbè Proviamo loro vedere Eh lui quasi quasi io Rimettere su un po' Ci serve a questo qua Da lontano Questo è a corto raggio Questo è a corto raggio Questo Ad alto potenziale Potremmo prendere questo Però prima potenziavano In modo da sbloccare eventualmente Obice Matris l'automateria no Per esempio Ambozzamento per materia Qua no Qua c'è una due Allora Qui ha un sacco di punti Potenza fisica Allora Questo magari Non sarebbe forse male Per tenerlo su No In caso ci serva Non è che sono così tanti i punti comunque Mi sembra Mi sembra Di fare un po' tutti Però C'è l'alloggiamento per materia Solo queste Difesa fisica Con pochi punti Più 10 È qualcosa di utile Veramente utile Qua guadagniamo 750 Di vita Difesa Difesa magica Recupero Potenza fisica Ma Non mi convince Qui ci sono Altri punti Vita Che mi è nata Una selezione Qua Però Solo 5 slot Contro Molti di più C'è Molti di più 6 Ok Vediamo un attimo Anche loro Cosa che hanno Mi sembra Una cosa migliore Quella Ok Quindi Equipaggiamento Barrett Qui Mettiamo Sull'obice Sì Però Tutti La piastra Abbiamo Uno Da Quattro Slot 3 3 3 Fraccio Letto Risolante Prendiamo Parecchio Di difesa Però Questo Difiso Magica 26 Potrebbe Essere Meglio Ok Vediamo Cosa Che ha Su Ardente Glaciale Galvanica Trincerante Quando si parla Di attacchi Autosoccorritrice Ok Può essere Curativa Rianimante Che curano L'alterazione Ardente Glaciale Glaciale Galvanica Ma Meditativa No Sì Ok Ardente Protettiva Glaciale Galvanica Occulta Cosa faceva? Aumenta La magia Raffinante Ok Il fatto Che non c'è Un quarto Evitante Verifica Ricaricante Rotiva Ma Io non so Se erano Tutte queste cose Magiche Bisogna vedere Che cosa Incontriamo Diciamo così Salve Un attimo E qua Ma perché Si deve andare A pieni Non è che Si è capito Molto La storia Finora Comunque E in più Boss 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 Per il finale Francamente Ho già detto Che non Per me Toglie punti Al gioco Sì Vediamo Quanto Ce ne sono Non. E tu... tu è vero. Ci che guardano con l'occiata non vedono nulla con la scuola. Tutto con te è vero. All born are bound to her. Should this world be un made so too shall her children. È vero. The world won't end today. You. You will. Listen. Destiny comes. The world won't end. The world won't end. The world won't end. Zack. We drag our asses all this way. Ok, questo è il notizio di venerdì. Boy, oh boy. Il prezio di libertà è pesante. Quella non è l'arma base alla fine, no, di anche di Cloud. Come and get it! I'm waiting, Cloud. Ha detto, sto aspettando, Cloud. Non vieni, Cloud. Ma su che... Su cosa sono basate in fare la traduzione italiana? Perché dubito che la versione giapponese dica che sia così differente. Questa è il punto di non rivoluzione. Questa è la versione di destino. Quindi perché mi ha stoptato? Non ho capito. sicuramente cosa troviamo dall'altra parte? libertà 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 libera come un grande non finito il cielo il cielo ciò che tu hai ascoltato sono le voce del mondo ciò che nati in questo mondo che vivono e che morono che arriva che sono scoppi perché lui, Sephiroth? loro loro non ci sono non ciò che non ciò che ciò che non 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 ciò che ciò che non ciò che non ciò che non ciò che si non ciò che 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 spooky e si non ciò che la singolarità del destino nessuno sa cosa può accadere una volta superata la barriera delle noomen Se necessario, ripercori la tangenziale per arrivare al distributore automatico e prepararti a qualsiasi eventualità. Boh, io qualcosa ho fatto, però... Non lo so. Cloud, noi dovremmo andare. Ready? Never tried to challenge destiny. This could well be her last line of defense. It won't be easy. Let's go. Sono un po' preoccupato in realtà. È lui che aspetta? Wouldn't be the first time I spit in destiny's eye. Whether you can see the scenes of your kid, doesn't change that she's always trying to have it her way. Daddy's coming home real soon, honey. Ha fatto il discorsone. Vai! Vai, vai, però. Vai, vai. Hmm. Uh, over there! Ok, questo non è certo! 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 Ok! 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 Is this the armor? Come on, that ain't fear! Run! We gotta go! Just go! Uh... Uh, uh, uh... Vai, 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 vai! Run, dammit, run! Move your ass! Go, 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 go! Go, go, go! Go! Go, go, go! Go, go, go! I hope we길 keep. Cioè sono tratti nuovi Ma? Adesso mi lascio perplesso perchè Allora Quello che ci spara il laser è questo qua, il vendicatore Diastrofismo Cioè 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 Ha Cioè Non è che sia chiaro Che poi quando prendi il controllo di un personaggio Chiaramente ti bombardano a te Mi sembra che questa fase qua sia semplicemente quella di andarsene Poi potrei sbagliare ma Cioè nel senso combatterà un po' ma non è quello Non possiamo curare gli altri Sono fuori dal party in questo momento Cioè nel senso C'è solo lui adesso Però Fa male lui qua Cioè nel senso Ha Non è bene Sì Non è bene Fuori uno Queste sembrano cose di Rebert Sembrano Presagio del futuro Cioè ci sta dicendo Guarda che questo sarà il futuro Questo è di nuovo due insieme Ancora qua Eh Questa metà morta di cosa c'è? Cioè ma le scansasse qualcuno Non ce la faccio Una reazione No Va Ma fa qualcosa O Che danni ha fatto? Allora Ah no Siamo solo noi poi Cioè stiamo facendo danni a quello Siamo solo quell'altro No Ma No 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 Deal with that Yeah No Right so is that Come on! Come on! Come on! Don't go to that! Come on! 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 Bang bang! Got you! Come on! Come on! Come on! Come on! Keep it up! Come on! Come on! Come on! Numenflavum! Come on! Come on! Come on! Come on! Esplode il pianeta! No! Sta arrivando una meteora! Cosa! No! No! Vai a metà! Come on! Qual è lo spilongone? Quello grosso! Come on! 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 It's on you! I'm coming! Come on! Come on! Come on! Loro stava sparando! Cosa sta roba adesso? Si sono fusi insieme? Multicolore! Verde rosso! Let's do this! Right! We can do this! Together! Hey! Ah! There! Huh? O... Allora... Un attimo! Possiamo fare un'analisi di questo almeno! Allora Boh Ah niente Ma l'analisi Vedo che qua c'è scritto cambio a bersaglio Quindi magari funzionava su tutti in realtà Però a parte questo Un'informazione di quali sono Incarnazione di Bahamut Creata dalla fusione dei Numen Rubrum, Viridium e Flavum C'è un bel po' di rivita tra l'altro Cos'è? Mega illusione Perfetto Vabbè facciamo fare salto mortale Proviamo a chiamare Ifrit Penso che uno vaga l'altro Non parla di Il problema è un altro Il problema è che dobbiamo curare Tutti Non c'è ancora niente Forse ti fa tra poco Dai è su Usiamo un'abilità Allora Meglio appurarci qua Non c'è ancora Cloud è al limite Ok Vai Poi Quasi a Erich Non c'è ancora Non c'è ancora Buon lavoro Ci sono separate Ma dovevamo ancora fare loro però Allora Allora C'è Sono sempre in terra Non riesco a fare il tempo a parare Facciamo fuori questo se riusciamo Allora Allora No L'ha interrotto Stronzo Lo che bisogna far fuori prima Sembra quello, però Oh, vabbè Allora, com'è che sono messi? Questo qui blu non è quello che ha messo Ok Li tiriamo Ma non abbiamo niente Tiffa Tiffa, possiamo tiffa 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 L'Iridium, sì C'è un bacino Tiffa punti magici Concentriamoci su questo Wow, cloud Verità Colpo audace Anzi Facciamo reazione C'è un fila di giro Interrompe il corpo Non ero vicino Alla stanza Boh Sono solo botte che sto prendendo Me ne rendo conto Guardate Ci sono Sì Che cazzo ha fatto Eh dai Allora E' che lei non ha Allora Le altre sono ancora là con queste No questa è tornata Quindi bisogna attaccare l'altra Siamo bassissimi con tutti Perché stanno ne a guardarlo E' un suo favore Ah che c'è arrivato L'unico modo per ritornare Di lui è Oh io Provo a parare ma non c'è Non faccio in tempo No Oh, no, no, no. Certo che fa ma non si vede, cioè non c'è poi un feedback sul colpo Quella è Arith, sembrava Arith no? Possiamo colpire, facciamo fare qualcosa Questa roba Niente eh, c'è un qualcosina ma niente di che 800 queste roba Questa roba Calcio Calcio Questa è CG perché questa roba non la fanno in engine, allora Alcune scene hanno fatto proprio un CG perché non... Nussaccio Ancora Occhioni verdi Bel colore apocalittico Ehm... ma chi è? Una bomba per nucleare? Ma hai occhi da gatto? Ancora 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 Questa è una musica orchestrale finora Quanto cavolo è lunga quella spada lì? Ancora 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 Ah Ancora